musica sono qui con Fabio di Mauro ufficio a dove stiamo andando riprendi che così vedono dove stiamo andando non so dove stiamo andando e ma dove siamo? ciao ciao salve piacere Caprini piacere piacere ciao il più torno su come si rompia un pallone ciao ciao Grazie a tutti 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 Bello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti